Angelica e Medoro La descrizione delle vicende che riguardano Angelica e Medoro si trovano all'interno del 19 canto dell'Orlando Furioso, poema epico, cavalleresco scritto da Ludovico Ariosto. Di seguito vedremo come strutturare un'analisi del testo poetico per le ottave in questione. Analisi del testo poetico Angelica e Medoro Il sistema metrico del 19esimo canto presente in decasillabi con schema ritmico, a Babè e Buc, e l'argomento trattato è l'infatuamento tra Angelica e Medoro. L'episodio dell'innamoramento di Angelica è un'ideale continuazione del bel gesto di fedeltà e di amicizia compiuto da Medoro e Cloridano nelle strofe precedenti. Nelle prime ottave di questo canto si narra la morte di quest'ultimo, che del proprio sangue fa rosseggiare la sabbia, perché crede che l'amico sia stato ucciso dai cristiani. In realtà, Medoro, ferito, verrà soccorso e curato dalla principessa, che si trova nei pressi del luogo in cui il ragazzo si ferma, e lo scorge. Angelica lo incontra ferito ed è presa da pietà. Grazie alle arti mediche apprese in India, lo medica servendosi dell'impacco ottenuto da una pianta. Ottave 20-24 Dopo aver sepolto Cloridano e Dardinello, Medoro e la donna, con l'aiuto di un pastore, si rifugiano nella casa di quest'ultimo. Il sentimento della principessa, inizialmente solo di pietà, si trasforma ben presto in amore per il giovane, men mano che la ferita guarisce, nel cuore della donna si fa strada l'attrazione, la sua piaga più s'apre e più incrudisce, quanto più l'altra si ristringe e salda. Ottave 26-29 Alla fine, Angelica è indotta dalla passione a prendere l'iniziativa, se di disio non vuol morir, rompe ogni freno di vergogna. Ariosto nota come sia la prima volta che Angelica si scopre innamorata, tutti i valorosi cavalieri innamorati di lei vengono invece respinti. Ottave 31-32 Per rendere la loro unione onesta, per onestare la cosa, Angelica e Medoro si legano in matrimonio sotto il tetto del pastore che ha offerto loro ospitalità, e trascorrono più di un mese in una condizione di idillio amoroso, passeggiando e incidendo i propri nomi, legati insieme in diversi nodi. Sugli alberi La donna di Enea e di Done, nell'ottava 35 Pausata solo dalla gelosia, e lo abbassa ad amore borghese, Medoro e Angelica incidono i propri nomi, giocherellano al gioco dell'amore, si sposano. La trasformazione è ancora più radicale in Medoro, che non è innamorato di Angelica, ma inizialmente sfrutta l'occasione che il destino gli offre, per poi innamorarsi a sua volta. L'amore borghese, qui, non è che il travestimento di un impulso irrazionale, di un desiderio sessuale, sì che il matrimonio è solo un modo per addombrar, per onestare la cosa, cioè l'atto amoroso, peraltro palesemente fuori dalle norme e dai riti della religione. Ariosto liquida in un sol colpo gli opposti modelli di amore cortese e borghese, dimostrando che ogni tentativo di razionalizzare tale impulso è destinato al fallimento, tant'è vero che, sposandosi, Angelica e Medoro escono per sempre dalla sfera del poema. Le due parti del brano, ottave 26-30, innamoramento di Angelica e il suo dichiararsi a Medoro, ottave 33-36, matrimonio e amore fra i due, sono divise dall'intervento dell'autore, le cui ironiche domande rivolte ai pretendenti della giovane contengono le chiavi di lettura dell'episodio. Rovesciamento dell'amor cortese nel suo dialogo immaginario con gli spasimanti di Angelica, Ariosto si fa alcune domande retoriche. A cosa è giovata l'inclita virtù di Orlando e sacripante? Quale merito e quale ricompensa hanno tratto dal loro alto onore e dal loro servir, cioè dal loro amore esemplarmente cortese? Che cosa proverebbero Agritane, Ferraù e tutti gli altri spasimanti, maltrattati da Angelica con ripals crudeli e tinumane, se la vedessero ora così arrendevole fra le braccia di Medoro? Qui Ariosto usa termini propri del lessico cortese, conte, re, virtù, cortesia, ricompensa, guidardone, merto, onor, servir. L'ironia dell'autore trapassa in sarcasmo, e mostra tutto l'abisso che separa la follia dalla realtà, l'Angelica sognata e divinezzata dai suoi amanti dall'Angelica reale. Contravvenendo alla tradizione della lirica d'amore, dai provenzali a Petrarca, Ariosto rappresenta la storia sentimentale e psicologica del rapporto fra Medoro ed Angelica dalla prospettiva della donna anziché da quella dell'uomo. Questo per e per Ariosto è la donna che ama ed è l'uomo ad essere amato, è la donna che si innamora, prende l'iniziativa, si dichiara, conquista. Questo rovesciamento di ruoli ha almeno tre significati, il primo è di ordine ideologico, la nuova visione laica del mondo consente libertà d'azione anche alla donna. Il secondo è di ordine sociale e letterario, Ariosto si diverte a smascherare alcuni tratti dell'amore che le convenzioni cortesi e letterarie travestono e idealizzano. Il terzo è legato al significato dell'Orlando furioso, il comportamento di Angelica serve a far risaltare l'opposizione fra ideale e reale e, quindi, il senso finale della follia d'amore. Si deve tenere presente, a quest'ultimo riguardo, che la principessa è stata fin qui un personaggio prevalentemente passivo, oggetto di desiderio altrui, sempre in fuga e disposta al rifiuto, la sua metamorfosia è, dunque, ancor più radicale e stupefacente. Angelica e Medoro, stile a livello formale, nella parte iniziale dell'episodio fanno da motivo conduttore la parola piaga, ripetuta quattro volte nelle ottave 27-29, e l'immagine che contrappone la ferita fisica di Medoro, che va guarendo, alla ferita sentimentale. Di Angelica, che invece si apre sempre di più col passare del tempo, Ariosto conduce una sorta di analisi psicologica su Angelica, dai primi segnali dell'innamoramento al crescere della passione sempre più consapevole, fino al suo dichiararsi rotto ogni freno di vergogna. Nella seconda parte dell'episodio è subito in primo piano e dominante la metafora della rosa, ottava 33, in un clima di sensualità, aperta e una punta di malizia ammiccante. Ascolta su Sprecher, Ariosto e Boiardo, confronto il paragone più immediato che si può fare con l'Orlando furioso è sicuramente quello con l'Orlando. Innamorato di Matteo Maria Boiardo, autore nato a Regno Emilia, ma legato alla corte degli estensi. Innanzitutto si notano differenze a livello stilistico, Boiardo scrive il suo capolavoro per un pubblico non necessariamente colto, e utilizza il latino volgare comunemente parlato a Ferrara, mentre il racconto di Ariosto viene letto in tutte le corti della penisola italica, ed è dedicato principalmente ai letterati, ragion per cui utilizza un linguaggio più elevato. Subisce anche l'influenza dell'amico Bembo, il più illustre scrittore del tempo, che aveva pubblicato le prose della volgar lingua, e da Petrarca, che utilizzava un linguaggio sublime. Per quanto riguarda la trama, invece, entrambi usano l'entrelacement. Contrariamente a Boiardo, invece, Ariosto utilizza l'ironia, Boiardo crede veramente nei valori cavallereschi di cui parla, mentre Ariosto ironizza sui paladini e sui cavalieri, che lottano ed impazziscono per inseguire i loro desideri, ma che alla fine non giungono a nulla, continuando a guerrare. Sono in balia della fortuna, ma per Ariosto se ne può ridere, ironizzando sui propri fallimenti. Grazie.